ciao raga come state spero bene allora nuovo video what's my bed questa volta aggiornato perché ho comprato una nuova borsa se non lo sapete una nuova zecca proprio oggi l'ho comprata che costava 19 euro e l'ho pagata ovviamente con 25 euro quindi top fantastico dunque allora ho preso anche una cover che non ho detto però è incastrata e attaccata al telefono con questo registrando questo momento e quindi l'ho voluto acquistare tutti gli insieme sia borsa che cover del telefono ovviamente nera come la borsa la vostra in questione è questa non faccio le troppe cose perché sono non voglio annoiare comunque questa è la borsa e questa è la trapolla vedete questa è la trapollina molto bella mi piace davanti vedete è bellissima anzi a me non è piaciuta tanto ma a me si mi è comodissima ho messo ovviamente poche cose perché tanto non metto molte cose ecco qua questa è una specie di spurtiarsi può portare anche a braccio ma non riesco a portare l'altra colla perché è molto più comoda e questa è una specie di nuova specie come posso chiamarla e questa è la mia bella borsetta poi dentro c'è allora ve l'apro un po che l'apro qua c'è come soltanto dire un'altra tasca non c'è niente ma voleteci potete mettere cosa volete voi io ci metto le chiavi ne metto ma non serve perché ho altre chiavi da mettere dentro e qua dentro c'ho vabbè documenti ovviamente documenti in questa borsa c'è la testa in questa tasca questa tasca qua documenti e qua c'ho nella tasca in mezzo c'è vedete bene se c'ho un faccioletto per il naso un pacco di faccioletti facciamo vedere le cose poi una pezzetta per gli occhiali e con gli occhiali il facciolari e con gli occhiali e quant'altro poi una porcetta di profumi del rimel rimel ecco qua poi il mio portafoglio eccolo qua vedete lo metto così perché se non fa troppo riflesso e dà fastidio portafoglio poi infine cosa ho messo qua dentro altro niente a parte che qua dentro c'è messo potete con le patine perché è un'altra cosa che non mi dirò mai dove le metto ma le metto sempre qui e poi basta la borsa è questo non c'è altro niente dentro vedete già c'è troppa roba ragazzi meglio portare il tocco poco poca roba che portare il mondo perché noi donne ovviamente come voi sapete veramente cinque del mondo io ho deciso di metterci poca roba perché se metto troppa roba mi cade più la schiena ma la schiena comunque rivalisco questa è la mia borsa con tutta l'altra collina e mi piace lavorare questo suo gancio però questa è per portarla così vabbè mi piace tanto e poi c'è la coppia che è inutile che vi faccio vedere però stavolta siccome che l'altra era un po sozzina quella trasparente ho deciso di cambiarle con una bella pulita e nuova che così è top fantastico nulla questo era un video breve ma spero sia stato sintetico di compagnia non so se è stato sintetico o meno però mi ha fatto mi avete fatto compagnia mi avete fatto like commento e attivate la campagna di tutte le notifiche di del mio canale youtube se questo video vi può piacere un bacio a presto e fatemi sapere sulla location di questo video ma penso che sia un po bruttino non lo so magari cambio vediamo ciao a presto